I vertici nazionali dell'Udc a Taranto per incontrare i quadri provinciali del partito. In una sala gremita di gente, Cesa e Casini hanno parlato di Italia ed Europa, in particolare del ruolo che merita e deve avere l'Italia in Europa. Al Parlamento europeo, ha detto Cesa, dobbiamo eleggere gente che conti, che sia capace di farsi valere e capace di fare quadrato quando ci sono in gioco gli interessi nazionali. Così fanno i tedeschi, ha concluso Cesa, e non solo loro. Noi ancora siamo distratti e superficiali. Se contiamo poco dipende da noi, da chi mandiamo in Parlamento. Il concetto è stato poi ribadito da Casini. Ascoltiamo. Se vogliamo cambiare la politica europea, se vogliamo che si occupino dei problemi veri, se vogliamo parlare di sviluppo e di crescita, non solo di rigore, non possiamo fare una politica che produce solo recessione. Dobbiamo rimettere in moto l'economia, un po' come hanno fatto gli americani, anche con la leva pubblica. E da Casini abbiamo chiesto un giudizio sulla delicata situazione dell'Ilva di Taranto e della siderurgia italiana. Un grande punto, un grande punto interrogativo che però grava sull'intero mezzogiorno. Ambiente, modernizzazione economica devono andare di pari passo e qui si tratta di recuperare il tempo perduto, ma di non perderne altro, perché qui ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro.